ci manca qui il path del new post ok perché il nostro obiettivo di togliere via il navigation service ok avevamo lo login registra la home e il new post abbiamo aggiunto anche il global your feed e vogliamo togliere anche e vogliamo togliere anche per il new post che ovviamente per il new post chi potrà cliccare il new post potrà cliccarlo soltanto i nuovi gli utenti iscritti certo è che col sign out non può l'utente non può ovviamente col senato potremmo fare un redart sulla home page senza global tag eccetera vabbè questo è un altro discorso quindi e nel caso in cui l'utente non si è alloggato non può creare un nuovo post riloghiamoci un attimo f punti e vi faccio vedere quale problema io faccio un po sentanto andiamo creare la route ok quindi andiamo qui andiamo nel nostro route e qui definiamo un nuovo path due punti new post facciamo new post due punti virgola component due punti new post come si chiamava new post editor si chiamava editor vero si editor editor component allora questo adesso se io metto new post dovrebbe portarmi nell'edito andiamo sistemare anche l'editor togliamo via leader e il footer ok non ce l'abbiamo sempre duplicato ricordate avevo detto l'altra volta che l'html ha fatto bene le cose ok ok qui abbiamo l'editor se io faccio sign out come vedete sono sempre la possibilità di creare un nuovo nuovo articolo invece non vogliamo che questo accada quindi che facciamo per evitare questo ovviamente l'utente da solo non ci può arrivare che non c'è nessun menu che ti permetti di arrivare all'editor ma se magari qualcuno gliela app gliela gliela dato l'utente potrebbe scrivere new post e automaticamente entra nella pagina di editor no questo vogliamo evitarlo ora vi faccio vedere come si fa diciamo la vecchia maniera e poi ve lo faccio vedere nella nuova modo quindi la prima cosa facciamo è mettere una guardia chiameremo out.guard.service.ts non è un vero proprio servizio ma mi piace comunque sia identificarlo come service potremmo anche facciamo così dai chiamiamolo out.guard.ts tanto per differenziarlo ok ora qui avremo una classe chiameremo outguard quindi esportiamo questa questa classe outguard cosa vogliamo che faccia vogliamo che controlli che l'utente sia connesso che quindi se l'utente è connesso allora possa fare un new post altrimenti o lo mandiamo in una pagina non autorizzata oppure lo rimandiamo nella home page in questo caso noi faremo lo ridotteremo sulla home page non su una pagina non autorizzata ma per semplicità di cose non volevo creare un'altra pagina e non ci sono su questo progetto non ci sono controllo sui ruoli perché tutti gli utenti registrati possono scrivere noi post però voi potete adattarlo semplicemente alle vostre esigenze la prima cosa che dobbiamo fare qui sull'outguard è implementare il can activate e come vedete è deprecato poi vi faccio vedere come si fa con il nuovo modo comunque vi faccio vedere come si faceva una volta una volta due versioni fa non è due versioni fa come vedete questo cana tv tv ti mi dice mi dà soltanto una funzione mb async in realtà questo possiamo a bella lasciamo così una volta non era come i bs in che c'era un'altra cosa qui erano observable e via dicendo però poco importa qui abbiamo due parametri in ingresso un route attività del route snapshot e l'altro lo state route state snapshot questi due parametri ci dicono su quale pagina siamo in questo caso a noi non serve perché dove appliceremo questa guardia e vorremmo soltanto che l'utente sia logato come facciamo intanto sapere come se l'utente è logato ce l'abbiamo se vi ricordate l'abbiamo chiamato account service no user service eccolo qua dobbiamo intanto prendere questo user service uguale a inject user service e lo importiamo ora se user service token se c'è il token significa che l'utente è collegato altrimenti no ricordate facciamolo così facciamolo molto più islogged è uguale this user token not equal e quindi qui abbiamo se l'utente è logato o no se è logato tutto a posto altrimenti dobbiamo ridirottarla sulla home page quindi tanto qui facciamo un bel return e vuole sapere se questa rotta e può accedere l'utente quindi qui i slogged no il can activate significa posso attivare questa rotta sì o no quindi qui torniamo l'islogged salviamo per applicarlo nella rotta corrispondente andiamo qui nel route e qui abbiamo il che activate dei punti qui possiamo avere un array di guardie ma in questo momento noi ne abbiamo una sola che ovviamente non mi aiuta non mi aiuta alt guard e lo andiamo importare ad import salviamo vedete e se andiamo a vedere qui pure mi dice che non può essere invocato vabbè lasciamo per il primo momento questo errore però come vedete se io non sono logato e faccio new post non mi fa vedere niente ovviamente così è brutto quindi nella guard if not is logged e facciamo andiamo a iniettare come abbiamo visto prima il router il router quale inject router andiamo a importarlo qui faremo this.router.navigatebyurl barra global salviamo andiamo a riprovare new post e automaticamente non funziona come sempre se non è loggato andiamo a metterci un breakpoint ok new post ma non si è loggato qui mi sa che è questo che è andato mi è voluto without new ah giusto ragazzi nessuno che mi aiuta qui dobbiamo dirgli eh sì 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 injectable per questo di solito li finisco come servizio provided in due punti ok adesso dovrebbe andare perfetto che versione stai usando? è Angular 17 ma adesso vedremo un nuovo modo adesso sto facendo vedere come si faceva una volta ah visto che adesso si ferma quindi togliamo via il debugger vedete che ha funzionato anche il breakpoint andiamo pure avanti ok e mi ha rimandato ritorniamo indietro ok facciamo così facciamo new post non mi fa vedere niente qui possiamo cancellare rifacciamo la prova scusate new post non mi fa vedere niente perché ovviamente la rotta è sotto guardia però è brutto farlo vedere così quindi quindi lo rimandiamo a global quindi se adesso faccio new post questo come vi dicevo è il vecchio modo come si faceva una volta adesso le guardie in Angular 17 è una funzione quindi commentiamo un attimo questo andiamo a fare un export cost la definiamo nella stessa identica maniera out guard di che tipo prima avete visto quando facevo can activate c'è il can activate function qui i parametri sono gli stessi che passavamo qui uguale maggiore e qui abbiamo il nostro codice il codice è sempre lo stesso quindi andiamo a copiare niente andiamo a copiarlo qui dentro ovviamente ci servono questi due servizi quindi andiamo a metterli nel nella nostra function quindi cost vabbè copiiamo sento questo cost ok togliamo via i vis e anche qui togliamo via i vis formatiamo un attimino il codice eccolo qua andiamo a vedere se funziona secondo voi facciamo il sondaggio visto adesso io faccio new post non riesco new post non riesco più ad entrare magari invece del navigation global potremmo mandarla nel sign in ecco qua quindi se io adesso faccio new post mi rimanda all'autenticazione ora sistemiamo anche questo ci lo chiamo qui bisognava collegarlo lo andiamo a collegare immediatamente quindi nel leader qui ci mettiamo router link new post ok e ci mettiamo anche il router link active andiamo a salvare adesso clicco ecco fatto e clicco qui andiamo a global ora se siete stati un attimo accorti oltre al can activate c'è anche can activate child cosa serve il can activate child ad esempio nella home page cioè è una funzione di attivazione per i child ad esempio potremmo creare una guardia non riesco a trovarlo non riesco a trovarlo ecco qui potremmo definire una guardia non tanto qui che qui potremmo ad esempio nel feed potremmo mettere il can activate no potremmo mettere out guard no perché questo qui avrà accesso soltanto quando ok ma magari potremmo metterlo proprio nei routes quindi qui quindi dire guarda per attivare i child devi avere determinati tipi di permesso è molto più carino il metodo conciso con una function cioè si semplifica molto non riesco a trovarlo Grazie a tutti